Liliana Segri ha ricevuto oltre 200 messaggi offensivi, a dir poco, in poco tempo. Beh, ieri ha raggiunto una prima vittoria, perché con la sua mozione al Senato è stata approvata una commissione che dovrà gestire, se volete, questi attacchi infami e infamanti a parlarne di questo e d'altro. Anna Bisogno, docente di comunicazione visuale e di televisione a Roma 3. E Anna, grazie di essere tornata. È un po' che non ci vedevamo, so che quest'orario è scomodo, ma noi siamo donne che si svegliano presto e che dobbiamo un sistema a casa prima di venire a lavorare. Ecco, quindi ce lo diciamo chiaramente. Anna, mi piace l'idea che sia tu a darci un attimo una mano. Una commissione, della quale poi sapremo meglio, nelle prossime ore, per la quale c'è stata l'assenza del voto, di una parte lo schieramento politico, questa è una cosa che lasciamo a decidere poi, insomma, discutere ad altri, ma perché siamo arrivati ad un punto così drammatico, quasi di non ritorno, Anna? Che bestie stiamo diventando con le parole? Non è un buon momento per l'umanità, diciamolo con chiarezza. La cosiddetta virtual insanity, dal cyberbullismo... Come la possiamo spiegare, questa virtual insanity? L'atteggiamento poco sano nei confronti, nella gestione degli strumenti che la rete mette a disposizione su tutti i social network, in particolar modo Facebook e Twitter, che sono diventati un po' i prolungamenti delle nostre mani, ma anche purtroppo di alcune idee. Allora ti dicevo che questo odio seriale, ma anche il cyberbullismo e tanti altri fenomeni che non sono percepiti e visti, ma che si muovono in un sommerso che pure ha la rete, ebbene restituiscono ogni giorno episodi che sono sintomatici di un malessere sociale, vero, reale, che è diffuso, radicalizzato, polarizzante e che, e questo è il dato più tragico, a ritmo costante, inquinano quella che poi è la più naturale, la più bella, ma anche più impegnativa attività umana, la relazione. Anna, una domanda. Il mondo è sempre stato arrabbiato, ci sono sempre stati gli scontenti. Fino a qualche decennio fa si scendeva in piazza, si protestava, immaginiamo anche durante l'austerity, per esempio, quando ci fu detto che non potevamo uscire più la domenica con la macchina perché bisognava tenere buona, la benzina costava troppo, bisognava fare una serie di cose. E in fondo questo mondo, a volte con le manifestazioni, nella maggioranza dei casi, non violente, riuscivamo a cambiarlo. Che cosa pensiamo di ottenere, offendendo, umiliando, dando il peggio di noi attraverso i social? E' sintomatico dell'assenza di luoghi fisici all'interno dei quali, come dicevi tu, la piazza dove manifestare, ma soprattutto prendersi la responsabilità, metterci la faccia, perché il messaggio che deve passare in tutta questa vicenda è che c'è una separazione netta, una differenza tra l'esprimere e scrivere un'opinione che pure andrebbe espressa, scritta con rispetto, è un reato, cioè minacciare una persona. Il messaggio vero che deve passare è che l'odio costa, l'odio ha un prezzo e soprattutto che il male non è mai banale. Chiudo, e questo non l'abbiamo mai detto nessuno, dal momento che se non siamo capaci di restare umani noi, abbiamo bisogno di normative, di regole, quasi di minacce, forse è arrivato il momento anche di fare questo, cioè di essere un po' più rigidi nel dare un peso a questa responsabilità che abbiamo. Il fatto che una parte dello schieramento politico abbia ritenuto l'istituzione di una commissione contro l'odio una limitazione della libertà di espressione, non ti fa più paura forse degli stessi gesti che commettiamo noi? Beh, mi fa pensare certamente a come anche la politica vuole affrontare un tema come questo. Ieri non c'è stata l'unanimità su una proposta che invece avrebbe dovuto trovare tutti d'accordo, perché sull'odio non si scherza, sulla violenza non si può scherzare, non ci può essere divisione. Quindi questo è un primo dato. Il secondo dato è che questi fenomeni non vanno mai letti isolatamente, nel senso che sono sempre intrecciati in qualche modo con il vissuto sociale, culturale e politico. C'è una sofferenza sociale molto forte, mancano, sono venuti meno i luoghi, anche fisici, sono venute meno le mediazioni e quindi è come un fiume che ha rotto gli argini. Professoressa Bisogno, ti metto insieme un po' di cose e di nomi. Penso a Ilaria Cucchi che è stata sommersa di offese in una partecipazione domenica in domenica scorsa, penso alla Santarelli quando annunciò che il bambino aveva il tumore, penso ad Emma quando ha detto che stava male per non parlare di Nadia Toffa, per non parlare di Marchisio che è stato derubato in casa, tra l'altro un furto con una violenza inaudita, e non avete idea di quello che è stato detto, ma voglio dire, qui prodest, direbbero gli antichi, a che cosa serve tutto questo? Detto proprio anche in soldoni, ma ci importa veramente tanto mettere becco in queste vicende? In realtà c'è uno schema che l'odiatore, chiamiamolo seriale, ma in realtà in rete ci sono due tipi di odiatori. C'è quello strutturato, quello che conosce bene l'algoritmo, quello che ogni tanto mette il rifiuto tossico in rete, e poi c'è l'indipendente. E questo è quello più frequente, perché in realtà lui a volte ignora il vero contenuto della notizia, dell'informazione che legge. Si sofferma a volte al titoletto, vero? Questo è verissimo. Ma neanche, a volte deve scrivere il suo pensiero contrario, e allora la polizia, e allora i carabinieri, e allora la mia vita, e allora... Ecco, ed è sintomatico il fatto che questa vicenda, in generale, questa dell'odio in rete, sia acuita proprio nell'anno in cui internet celebra i suoi 50 anni. Cioè quella idea di connessione, di condivisione, di conoscenza fluida, come dire, celebra questa idea in una fase veramente molto... Anna! L'idea dei rifiuti tossici in rete, per cui dovrà essere necessaria una normativa, credo che farà il giro di questo studio, di questa tv. Io ti ringrazio personalmente per essere stata qui. Grazie. E mi hai fornito una serie di... proposte, come dire, una serie di suggerimenti.